Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io mi chiamo Silvia Marangoni e pattino da quando ho tre anni. Nella mia carriera ho vinto 11 titoli del mondo e 12 titoli europei. E voi magari vi chiederete, ti sei mai doppata? E questo, di questo ve ne parlerò oggi. Il 2013 fu per me un anno fantastico, l'anno più bello della mia carriera. Ero arrivata a conquistare dieci titoli del mondo. Ero arrivata alla stella, ero arrivata all'apice della mia carriera. E in un secondo sono entrata nell'incubo peggiore della mia vita. Mi è successo un infortunio. Possiamo cambiare la foto. Mi dovevo preparare, dovevo partire per un'esibizione. Ero seduta e sono cominciati dei dolori lancinanti al petto e alle braccia. Ero seduta, ho cercato di alzarmi in piedi e le mie gambe non hanno risposto, sono caduta a terra. Da lì la corsa in ospedale, un'attacca d'urgenza e una dottoressa che esce, si avvicina e mi dice guarda, è un'ernia cervicale che non permette al midollo di passare e quindi non puoi sentire le gambe. L'unica domanda che fece questa dottoressa fu, posso continuare a pattinare? Lei ridendo mi disse, intanto pensa a camminare, che per pattinare c'è tempo. Per me non c'era tempo, perché in quel momento vedevo tutti i miei sogni sfumare. Vedevo tutto andare in frantumi, la mia passione, il mio grande amore. Il mio talento, non potevo più toccare, non potevo più pattinare, non potevo più fare niente. E quindi non potevo più vivere di quelle emozioni forti che avevo vissuto fino a quel momento. Le vittorie, i brividi che provavo quando ero sul gradino più alto del podio. Basta, era finito tutto quanto. Mi diedero un anno per recuperare, a camminare come prima. Questo significava carriera finita. Non ci volevo stare. E qui c'erano due vite d'uscita. Una di queste era dimezzare i tempi del recupero con il dopping. Io invece ho scelto un'altra strada. Io ho scelto un muro bianco, perché l'unica cosa che potevo fare in quei mesi era pedalare su una cyclette di fronte a un muro bianco. Io ho scelto quel muro, perché dietro quel muro c'era la mia vetta. Dietro quel muro c'erano i miei sogni, su quel muro ho scritto i miei valori, su quel muro c'era la mia fatica, su quel muro c'era me stessa. E io ho pedalato per ore e ore per risentire i miei muscoli, per risentire i brividi, per risentire le mie gambe e per risentire i battiti del mio cuore esplodere. Insieme a me hanno pedalato per tutte quelle ore fisioterapisti. Hanno pedalato gli allenatori, la mia famiglia, tutti, tutte le persone che mi volevano bene. E io sono stata fortunata, perché ce l'ho fatta di mezzari tempi con solo ed esclusivamente la forza di volontà e il lavoro. Sono riuscita a riconquistarmi il posto per andare ai campionati del mondo. Ce l'avevo fatta. Ho lavorato molto per arrivare a quel campionato del mondo e ce l'ero riuscita. Nella corsa per questo mondiale sono inciampata, perché a volte dalla foga non vedevo più il mio obiettivo, la mia vetta. Però sono sempre risalita, mi sono rialzata e ho detto dai Silvia che ce la facciamo. È venuto il giorno della gara, questa giornata particolare. E sono entrata in pista carica di emozioni e di speranze, perché ci avevo messo tanta passione, tanta grinta in quegli allenamenti. E mentre facevo il mio disco, sono inciampata. Io sul muro bianco volevo scrivere la parola vittoria e invece ci dovevo scrivere la parola sconfitta. Era una sconfitta che bruciava tantissimo, bruciava più del fuoco. E sapete perché bruciavo così tanto? Perché io ho un talento e non l'ho usato. Perché io non sono riuscita a dare il massimo di me stessa, cosa che avevo sempre fatto. E mi rodeva e ero arrabbiata, tanto arrabbiata, perché non c'ero riuscita. Perché signori miei, è dura non vincere. È dura. Quando sei quasi un po' abituato, grazie al lavoro che hai svolto, che hai fatto, a vincere. E è dura. Perché tutte le persone venivano lì da me e dicono, ma dai Silvia è andata bene. Comunque un secondo posto, secondo i mondiali. Insomma, vice campionessa del mondo. Dopo un anno terribile che hai passato, appunto perché ho passato un anno terribile e mi sono veramente impegnata al massimo. Ho dato tutta me stessa e ho perso un pezzettino anche di me stessa in quell'anno. Perché sono arrivata nel momento di dare il tutto per tutto e io non l'ho dato. E ho perso. E in quel momento, noi atleti, nei momenti un po' di sconforto, abbiamo due strade. Una dove riparti da zero e ricominci tutto. E una molto molto semplice e facile. E' una discesa che quella discesa si trasforma in salita e una corsa verso la vittoria che ti porta poi a vincere. E quella discesa si chiama doping. Il doping è facile, è veloce, è dietro l'angolo, è a portata di mano. Ci metti un secondo a cadere in tentazione. Il doping è un gigante dei piedi d'argilla che si frantuma in poco tempo. Quando scegli di prendere quella scorciatoia lì, tradisci prima di tutto te stesso. Tradisci il lavoro che hai fatto finora. Tradisci le persone che hanno pedalato insieme a te fino a quel momento. Tradisci lo sport e i valori che lo sport incarna. E soprattutto una vittoria con il doping non ha valore. Perché prima o poi farai conti con te stesso. Perché prima o poi ti guarderai allo specchio. E capirai che anche se hai vinto sei una brutta persona. Sei davvero una brutta persona. Perché quando guarderai le persone che verranno a complimentarti con te e soprattutto dei giovani atleti e tu li guardi in faccia, cosa gli dici? Che hai vinto grazie al doping? Che persona ti senti? Che persona sei? E allora io in quel momento ho deciso che quella scorciatoia, anche se facile, se veloce, era così semplice dire un sì e cadere in tentazione. Non era per me. Io volevo una bella via, difficile e tortuosa. Ma non perché sono masochista, perché mi piace la fatica. Perché come dice Carl Lewis, c'è solo un modo per allenarsi, è quello giusto. E c'è solo un modo per vincere, è quello giusto. E allora da lì bisogna capire che l'unica ricetta per andare a vincere è lavoro, lavoro, lavoro. E allora io dal giorno stesso in cui ho perso ho lavorato giorno dopo giorno con il mio allenatore, sette giorni su sette, due volte al giorno. Eravamo sulla media di cinque, sei ore al giorno. Non esistevano ferie, non mi interessavano, non c'erano giorni di riposo, non mi interessavano. Io avevo un obiettivo e quell'obiettivo era riprendermi ciò che era mio. e volevo dare il massimo e volevo far vedere a tutti che non ero la campionessa finita, che non mi ero persa, che non ero vecchia, che potevo dimostrare ancora tanto. E fu così che il 18 settembre 2015 ho vinto il mio undicesimo titolo del mondo. Ed ecco qui, questa è la foto di una vittoria. Questo è il mio allenatore. Questa foto però, dire che è la foto della vittoria, è un po' riduttivo. Questa qua è la foto della felicità. Perché la felicità non ha sfumature, non ha macchie. Una foto così, se ti doppi, non la fai. Ma non ti viene neanche. In questa foto c'è tutta la fatica e la soddisfazione di aver vinto un qualcosa solo con le mie forze. Perché è l'unico modo per arrivare ai tuoi obiettivi. La passione, il credere in quello che fai, i valori, il sacrificio, la fatica, sono le uniche cose, gli unici ingredienti che possono sconfiggere il doping. Questo gigante dai piedi di argilla. e soprattutto la mia ricetta è il rispetto di una foto che ho di una bambina nell'armadietto del mio spogliatoio. quel ritratto sono io da bambina la prima volta che ho messo i pattini con un sorriso da orecchio a orecchio. Io non mi sono dopata per non tradire quella bambina lì. grazie. Grazie.